Devescovi, Consigliere Quartini, prego. Sì, diciamo è anche una dichiarazione di voto favorevole alla mozione anche se presentata così, pur condividendo le perplessità di Donzelli. Quest'Europa che impone è un'Europa che non ci piace, è un'Europa che ci limita tantissimo. Io invito tutti quanti in questo senso a pensare a quanto è buono il parmigiano. Cerchiamo davvero di valorizzare i nostri prodotti, cerchiamo di fare una battaglia vera, autentica, contro il predominio e contro l'arroganza di Big Food che sta massacrando i nostri giovani con problematiche di grosse, di sovrappeso, di obesità. Bisogna davvero fare una grande battaglia contro il cibo spazzatura che ci propongono continuamente. Credo che questa imposizione sul discorso del latte in polvere sia gravissima. Credo che ne vada della salute dell'economia nostra, ne vada della salute della qualità, ne vada della salute della possibilità che la comunità in maniera orizzontale attraverso prodotti genuini e attraverso prodotti buoni possa anche crescere da un punto di vista economico oltre che di qualità del cibo. Quindi ribadisco che votiamo favorevoli a questa mozione, ancora più favorevoli se si integra l'emendamento proposto da Don Zetti. Grazie consigliere Quartini.